Partito Democratico sì, Partito Democratico no. Dopo sei ore e mezza di discussione ha vinto il no con il capogruppo del PD a rifiutare la richiesta. E' accaduto nel lungo e complesso Consiglio Comunale di Biceglie dove tra i punti all'ordine del giorno vi era la richiesta di ingresso da parte dei 14 consiglieri comunali e del sindaco Francesco Spina dal gruppo Democratici Popolari per Biceglie al Partito Democratico. Un consiglio comunale è arrivato dopo una lunga gestazione, dopo settimane di botte e risposta dai toni aspri e che hanno mostrato tutta la spaccatura tra le forze riconosciutesi nel centro-sinistra dopo l'approdo di Spina. Degli altri 11 punti in discussione invece vi è stata una rapida approvazione, compreglievi dal fondo di riserva, variazioni alle dotazioni di cassa, comunicazione sulle aree a diversa pericolosità idraulica, presentazione del piano di prevenzione della corruzione, approvazione del regolamento comunale taxi ed autonoleggio con conducente, oltre a sei debiti fuori bilancio. A tener banco, oltre alle diverse accuse tra le parti, proprio l'ingresso dei 14 nel PD con il segretario generale del Comune di Biceglie a rimetter tutto nelle mani del capogruppo Angarano, che ha detto no a questa adesione. Il commento piccato da parte dell'onorevole Boccia all'ultimo dei consigli comunali è stato piuttosto chiaro. Se vi sarà una forzatura e il gruppo del PD non rimarrà formato dai soli due consiglieri, questa questione finirà in tribunale, con un ricorso al TAR dinanzi alla Commissione di Garanzia Nazionale del PD. Nessun disgelo ed anzi nuove accuse ed attacchi tra le ormai due anime del centro-sinistra biscegliese, con i due Francesco a contendersi una battaglia ben più ampia del livello cittadino. A chiudere in momenti di tensione inoltre i procedimenti di decadenza dalla carica di consigliere comunale per Rossi, Storelli e Boccia, rei di essere stati assenti nelle ultime tre sedute consecutive di consiglio. Per Boccia, già dimessosi ieri, una difesa in aula con il ricordo di come nelle date dell'assise comunale vi erano state le commissioni bilancio della Camera e quindi l'impossibilità ad essere presente. Per gli altri due consiglieri invece vi saranno 15 giorni per documentare la giustificazione delle assenze in aula.